Arcidiocesi Catanzaro Squillace, nuove nomine per diverse comunità parrocchiali. L'Arcivescovo Metropolita di Catanzaro Squillace, Sua Eccellenza Monsignor Claudio Maniago, ieri, giovedì 26 ottobre 2023, ha comunicato le seguenti nomine che interessano alcune comunità parrocchiali della diocesi. Don Angelo Fusto, parroco San Giovanni Battista di Cenadi. Don Fabrizio Fittante, parroco Santa Maria Assunta e Santissimo Salvatore, rettore Basilica Santuario Madonna di Porto in Gimigliano. Padre Faustin Medar Calala, vicario parrocchiale Santa Maria della Roccella in Roccelletta di Borgia. Don Yasmin Laurent Tolizzara, amministratore parrocchiale Santa Maria Assunta di Santa Caterina dello Ionio e di Maria Santissima del Carmine in località Elce della Vecchia. Don Jonas Ocafor Vicario, parrocchiale San Vito Martire in San Vito sullo Ionio e Santa Maria delle Grazie di Olivadi. Don Kingsley Wanciukwe, vicario parrocchiale Maria Santissima Assunta in cielo di Serra San Bruno. Don Mirko Care, vicario parrocchiale Santa Maria Assunta nella cattedrale di Catanzaro. Don Paolo Calabretta, vicario parrocchiale Santa Maria delle Nevi di Girifalco. I religiosi missionari, i servi dei poveri, amministreranno le parrocchie, transfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, di Simbario e Santa Maria della Consolazione di Brognaturo.